Quest'anno, in occasione del Salone del Mobile, Berera Design District sarà lieta di ospitare Design on the Road. Questa collaborazione sono convinto che porterà ottimi frutti, perché prima di tutto parliamo la stessa lingua, design e design. È il nostro comune obiettivo e comune denominatore. Secondo, on the road. A me piace molto il concetto che l'arte, la cultura e il design vadano fuori dagli spazi chiusi, vadano per la strada, si allargherono a un pubblico più vasto. Quindi ritengo che questa sia una strategia molto giusta. Terzo, infine, è per i giovani, perché i giovani spesso non hanno le capacità finanziarie per affittare grandi spazi e per fare grandi eventi, per cui trovarli per la strada è per loro una possibilità da un lato più economica, ma anche di grande qualità e può essere anche molto utile per loro. sopra. Grazie a tutti.